ciao a tutti ragazzi, oggi vi voglio parlare di un'azienda che mi ha contattata per promuovere un loro prodotto vi sto parlando di partea fashion, è un brand di abbigliamento femminile se non erro, non mi pare di aver visto nulla di maschile e all'interno del loro shop potete acquistare capi singoli come maglie, pantaloni, conne o anche set coordinati io adesso vi mostro il set che ho scelto e chiaramente vi lascerò tutti i link giù in descrizione con un codice sconto più che rosi 15 con cui avrete la possibilità di acquistare qualsiasi prodotto dello shop con uno sconto quindi del 15% da applicare grazie al mio codice vi mostro che cosa ho scelto e poi vi lascio una clip dove vi indosso il set per farvi vedere un po' quella che è anche la vestibilità il capo che sceglierete arriva all'interno di questa busta con il logo dell'azienda che è partea è sigillato chiaramente da questa zippa io ho scelto come vi dicevo un set composto da top con queste ruche nella parte del décolleté è un tessuto sintetico però è molto comodo e indossato e davvero confortevole e una gonna con un elastico così in vita allungo il bacino che ti avvolge il bacino e poi ovviamente l'arca con dei vola ma adesso ve la mostro vi lascio alla clip e mi raccomando se volete acquistare qualcosa giù ci sono tutte le informazioni io ringrazio per te per avermi contattata e per aver scelto il mio canale per promuovere i loro prodotti vi lascio al video vi lascio al video vi lascio a qui Grazie a tutti. 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 Delicati, delicati, tocchi, tocchi sul viso. Spero che sia una vera giusta per te. Per te, per te. Come sempre, ti invito ad accomodarti. A metterti in una posizione comoda per raccogliere questo tuo momento di rilassamento. So che questo è uno dei trick che più di rilassare. E penso che tu, 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 abbia tutto, 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 delle ragioni del mondo, per dirlo. Quindi, goditelo. E rilassati. E rilassati tantissimo. E rilassati. E rilassati. Voglio che tu, 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 ti concentri sulla mia voce. E sui gesti. E sui gesti così lenti. che accompagneranno. Che accompagneranno il tuo sonno. Il tuo sonno. Il tuo sonno. per aiutarti. Per aiutarti questo relax. Per aiutarti questo relax. Beh, minuti. Per aiutati. Passo le mie dita sulla fronte sulla tua fronte da sinistra verso destra da sinistra verso destra da sinistra verso sinistra da sinistra da sinistra da sinistra verso sinistra sul tuo naso lo aggarezziamo dall'alto verso la dall'alto verso il basso dall'alto verso il basso dall'alto verso il basso dall'alto verso il basso dal'alto verso il basso sul destra risposta s'pio 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 E' un sacco Delicato 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 E' un altro quadro sempre delicato 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 Nel tuo corpo Perché ti stai rilassando Ti stai abbandonando Il rilassamento Il rilassamento Questo non fa che bene al tuo corpo e alla tua mente Adesso adesso voglio che tu chiudi gli occhi e ascolti il suono e voglio che tu ti rilassi con questo suono delle ambolle sulle tue orecchie quindi mi raccomando chiudi gli occhi e ascolti il suono e lasciati copiare e addormentati con questo suono e ok 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 anche ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.